Siamo nella chiesa di Sant'Ommaso d'Aquino con il priore della Ciconfraternita dei Turchini, Matteo Germinario. Allora, priore, è una bellissima iniziativa questa mostra che raccoglie i tesori e le bellezze delle confraternite. Noi non è la prima volta che organizziamo questi eventi durante l'estate. Quest'anno abbiamo voluto invitare anche le altre confraternite, perché chiaramente non siamo gli unici a possedere questi tesori, ma anche le altre confraternite sono in possesse di queste opere. L'abbiamo voluto chiamare il bello e il sacro. Il bello e il sacro perché Dio è la bellezza e noi attraverso la bellezza delle opere vogliamo celebrare la bellezza di Dio. Queste opere erano chiuse nelle sacristie, nei cassetti delle chiese da anni e abbiamo voluto mostrarle a chi viene a visitare, chiaramente mettendo come fulcro centrale il Cristo morto che è il nostro simbolo, oltre che della confraternita, di tutta Procita. Lo custodite però è di tutti, diciamo. Gli orari di apertura e come si accede al luogo della mostra? L'apertura è dalle 17.30 alle 21.00 più o meno e l'accesso è consentito praticamente a tutti tenendo conto delle regole che sono adesso in vigore, cioè la mascherina, l'igienizzazione delle mani e la distanza interpersonale, insomma non possiamo fare affollamento. Come sta andando la mostra, detto tra di noi? Diciamo che abbiamo abbastanza visitatori, ieri è venuto a trovarci anche il nostro emerito cittadino Antonio Lubrano, il giornalista, oltretutto è un amico, quindi spero che verrà soprattutto la gente di Procita, perché al momento è proprio quello che manca, la gente di Procita, i turisti quanti ne vogliamo, ma la gente di Procita sta un poco soffrendo questa iniziativa.